Le tariffe del gas si abbassano significativamente per i consumi di questo mese grazie all'andamento del mercato. Ad anticipare il taglio il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Seguiamo Francesca Grimaldi. Il calo del prezzo del gas che farà scendere le tariffe fino al 40% secondo un'impresa avrà effetti positivi sui livelli generali dell'inflazione. Già le bollette del mese di gennaio saranno più leggere. Infatti giovedì prossimo l'autorità per l'energia indicherà la variazione delle tariffe annunciata dal ministro dell'economia Giorgetti. La riduzione è dovuta al calo dei prezzi della materia prima e alla diversificazione delle forniture. Detto 40% perché questo è la riduzione ai prezzi di mercato all'ingrosso. Naturalmente poi ci sono dei meccanismi complicati gestiti da Rera che determinerà e fisserà esattamente la percentuale. Il taglio alle bollette riguarda chi aderisce al mercato dell'energia tutelato, vale a dire il 33% delle famiglie. Inoltre a fine marzo scadranno gli aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia. Ma il ministro ha anticipato che dal primo aprile il rinnovo ci sarà, anche se il nuovo sistema sarà diverso e premierà i comportamenti più virtuosi, cioè quelle famiglie che manterranno gli stessi consumi dell'anno precedente o addirittura di meno. La speranza è che questa riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi. La speranza è che questa riduzione dei prezzi.